Manu! Ciao! Non l'ha capita nessuno! Buongiorno amici! Oggi è giorno numero 6 Abbiamo avuto tutta la disavventura questa notte Si è rotto il nostro avestino Il nostro accampamento è distrutto Ma... Avremo la vita in giro Ci prepariamo per Manu Ciao di questa sera E sto un pochino stanco Vedete mi sto distruggendo Ma noi ce la faremo Il nostro ombretino è proprio piccolo E allora siamo rannicchiati in questa piccola ombra che riesci a fare E tu Vieni a venire così Iscriviti Adesso salutiamo Manu Ciao Visto che stasera c'è il suo concerto Siamo qui in spiaggia Io adesso lo vedrò Manu Ciao Idea di G Montrone Francesco Grazie Un momento panico da palcoscenico Manu Ciao 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 Anzi L'ho capito nessuno solo io ci siamo riposati adesso facciamo l'aperitivo e facciamo un bel bagnetto è tutto da Rotom Sandwich che festa e facciamo un bel bagnetto grazie a tutti e ci stiamo preparando un maxi burger è un boccadillo con l'hamburghese, tomate e queso perché noi non ci facciamo mancare proprio niente neanche in campeggio neanche a Rototom e che campeggio? questa sera, Manu ciao fantastico fantastico grazie a tutti 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 grazie a tutti